la volpe con la pancia piena inverno era ormai alle porte gli alberi privi di foglie non offrivano più alcun riparo e di piccoli animali si erano già preparati ad affrontare il freddo una giovane volpe vagava solitaria in cerca di un po di cibo con il quale placare quella fame terribile che l'aveva colpita erano molti giorni che non mangiava le sue prede abituali si erano rifugiate in calde ripari nutrendosi con le scorte alimentari raccolte durante l'estate ed era impossibile stanarli così il povero animale camminava sconsolato pensando che la fame era veramente una brutta nemica all'improvviso un profumo delizioso la stuzzicò le narici la volpe si avvicinò al punto da cui propagava l'inaspettata fraganza e finalmente vede un enorme pezzo d'arrosto premurosamente sistemato nell'incavo di una quercia sicuramente era il pranzo dimenticato da qualche pastore l'animale si intrufolò nella cavità della pianta riuscendo ad entrarvi con molta fatica quando si trovò all'interno del buco pote placare la propria irresistibile fame divorando la carne in un boccone trascorsi alcuni minuti la volpe con la pancia spaventosamente piena decise di uscire dall'incavo per tornare all'aperto ma appena tentò di oltrepassare il buco dal quale era entrata scoprì di non essere più in grado di superarlo aveva mangiato troppo ed era diventata molto più grossa rispetto a prima spaventatissima si sforzò così tanto per uscire che alla fine rimase irreparabilmente incastrata nella fenditura lo sfortunato animale iniziò a gridare finché una seconda volpe passando la vide e saputo quanto era accaduto disse è inutile strillare avresti dovuto avere pazienza ed aspettare tranquilla all'interno della pianta fino a quando la tua pancia non diminuiva invece l'impulsività ti ha ridotto in questa condizione e dovrai comunque aspettare finché non smaltirai ciò che hai mangiato così la povera volpe rimase incastrata nella cavità per più di un giorno rimpiangendo il calduccio che avrebbe trovato se avesse aspettato paziente all'interno della quercia la pazienza e il tempo sono degli ottimi alleati per affrontare qualsiasi difficoltà la volpe e la pantera al di là di un boschetto di frassini profumati vi era un bellissimo leghetto dalle acque limpide e cristalline davanti al quale due giovani animali accarezzati da un lieve venticello primaverile si stavano specchiando rimirando ciascuno il proprio portamento fiero e il colore del pelo si trattava di una graziosa pantera e di una volpe ugualmente carina vuoi mettere la mia figura con la tua disse la pantera all'amica tu sei goffa e piccola io invece sono snella lanciata e flessuosa il mio portamento è tale che perfino gli uomini usano il mio nome per indicare certe donne dal fascino aggressivo la volpe dopo avere ascoltato in silenzio rispose io sarò forse meno bella e più piccola ma sono comunque più piacente e più simpatica e poi il mio pelo è senza dubbio più folto e più caldo del tuo a proposito di donne se tu andassi in città vedresti quante signore si fanno belle indossando la mia pelliccia morbida a volte rossa a volte argentata sempre più altezzosa la pantera ribatte in quanto al pelo sì è vero il mio è più corto ma è più lucido e splendente inoltre nella mia famiglia c'è da sbizzarrirsi nella scelta dei colori so di non peccare di vanità dicendo di essere molto più bella di te solo in quel momento la volpe si rese conto di essere stata al gioco di quella frivola compagna la quale badava solamente al proprio aspetto fisico così conclusa cara amica sicuramente tu sei ammirata da tutti per la tua bellezza esteriore io invece sono molto più apprezzata per la mia intelligenza e la mia furbizia ti assicuro che sono queste le doti più importanti e non le scambierai mai con qualità puramente estetiche a quelle parole la pantera non fu in grado di ribattere e non le rimase altro che tacere di fronte all'evidenza dei fatti l'intelligenza e la bontà sono doti interiori molto più apprezzabili della bellezza fisica la volpe e il rovo c'era una volta una graziosa volpe dal manto marrone e lucente che viveva in una piccola casetta in mezzo al bosco un bel mattino di primavera l'animale uscì dalla propria abitazione con l'intenzione di procurarsi una preda per il mezzogiorno vagando per la brughiera rischiettando allegramente la volpe attirò l'attenzione di un ingenuo leprottino il quale incuriosito le si avvicinò per osservarla meglio l'astuta volpe non si lasciò sfuggire l'occasione e sorridendo al cucciolotto gli disse buongiorno a te mio piccolo amico cosa fai tutto solo in questi boschi il leprotto divenne improvvisamente diffidente di fronte a tutto quell'interessamento e indietreggiando piano rispose oh niente proprio niente anzi adesso che ci penso devo tornare a casa ma la volpe non aveva alcuna intenzione di lasciarsi scappare un bocconcino così prelibato quindi con un abile balzo si gettò sull'animale per afferrarlo fortunatamente il piccolino risvegliato dall'improvviso attacco riuscì a schivare l'aggressione con un veloce salto indietro precipitandosi in una folle fuga verso il limitare del bosco la volpe lo seguì fino a quando non si trovò sull'orlo di una grossa buca per evitare di cadere nel vuoto l'animale si aggrappò ad una siepe di rovo graffiandosi e pungendosi con le sue spine abbandonando l'inseguimento la povera volpe rimase seduta di fronte al rovo leccandosi le ferite da questo provocate che stupida sono stata si disse fra sé mi sono aggrappata alla prima cosa che ho trovato per non cadere in una buca e mi sono procurata solo graffi e puntura tanto valeva proseguire l'inseguimento e tuffarmi nella fossa ma per quel giorno ormai non poteva più far niente e camminando piano per il male se ne tornò a casa sconsolata adesso la paura dell'ignoto ci costringe a indietreggiare e a fermarci anche se questo a volte può essere meno vantaggioso la zanzara e il leone sarà una piccola zanzara assai furba e spavalda stanca di giocare con le solite amiche decise un giorno di lanciare una sfida al re della foresta si presentò così davanti al sovrano che era il leone e lo salutò con un rispettoso inchino il grande re che era intento a schiacciare uno dei suoi pisolini più belli lungo la riva di un fiume lanciò una distratta occhiata all'insetto oh buongiorno rispose sua maestà spalancando la bocca in un possente sbadiglio la zanzara disse sire sono giunta davanti a voi per lanciarvi una sfida il leone un po' più interessato si risvegliò completamente e si mise ad ascoltare a voi e continuò l'insetto credete di essere il più forte degli animali eppure io dico che se facessimo un duello riuscirei a sconfiggervi il sovrano divertito disse ebbene se sei tanto sicura proviamo in men che non si dica il piazzale si riempì di animali di ogni genere desiderosi di assistere alla sfida il singolar tenzone ebbe inizio l'insetto andò immediatamente a posarsi sul largo naso dell'avversario cominciando a pungerlo a più non posso il povero leone preso alla sprovvista tentò con le sue enormi zampe di scacciare la zanzara ma invece di eliminarla egli non fece altro che graffarsi il naso con i suoi stessi artigli estenuato il re della foresta si gettò a terra sconfitto così la piccola zanzara fu acclamata da tutti i presenti levandosi in volo colma di gioia la zanzara non si accorse però della tela di un ragno tessuta tra due rami e andò ad imprigionarvisi proprio contro intrappolato in quell'infida ragnatela l'insetto scoppiò in lacrime consapevole del pericolo che stava correndo fortunatamente il leone che aveva assistito alla scena con una zampata distrusse la tela e liberò la piccolina dicendo ecco ti salva mia cara amica ricordati che esiste sempre qualcuno più forte di te e questo me lo hai insegnato proprio tu la zanzara da quel giorno imparò a tenere un po' a freno la propria spavalderia le persone troppo sicure di sé riescono a volte a superare gli ostacoli più grossi ma inciampano spesso nelle difficoltà più piccole l'asino selvatico e l'asino domestico c'era una volta un simpatico asinello selvatico che trascorreva le sue giornate in libertà passeggiando per i campi e mangiando il cibo che trovava durante uno dei suoi giri quotidiani ebbe modo di vedere un suo simile dall'aspetto sano e robusto che brucava l'erba in un grande prato cintato da un'alta staccionata di legno esso osservando l'animale domestico pensò che bella vita lui sì che sta bene è spensierato senza problemi con cibo a volontà in effetti l'asino sembrava proprio fortunato gli venivano serviti due pasti abbondanti al giorno riposava in una stalla bene attrezzata ed aveva un pascolo meraviglioso a sua disposizione l'asino selvatico invece doveva accontentarsi dai miseri sterpi che riusciva a trovare ai margini della strada perché i prati ricoperti di erbetta fresca erano tutti privati ogni tanto il povero asinello appoggiava il muso sulla cima della staccionata e guardando l'altro lo invidiava da morire un giorno però il giovane asinello girovagando tranquillo incontrò sulla via un animale talmente sovraccarico di legna sacchi di grano ed altro da non essere in grado di capire di che bestia si trattasse quando questa per reagire ad una violenta frustata del suo padrone tirò un calcio e alzò il muso lo riconobbe era l'asino domestico che fino a quel giorno aveva tanto invidiato e caro mio mi gridò affiancandosi a lui a questo prezzo non farai mai cambio con te nessuno mi comanda io sono libero e leggero come una libellula se poi non mangio bene come te meglio mi mantengo in linea e per sopravvivere mi arrangio dopo quell'incontro l'asino selvatico non provò più alcuna invidia per il suo simile è meglio possedere poco vivendo felici piuttosto che avere la ricchezza a costo un asino e una volpe fecero amicizia e insieme se ne andarono a caccia incontrarono un leone dall'aria minacciosa la volpe intuì il pericolo che stava correndo gli si avvicinò e cominciò a parlargli si impegnava a consegnargli l'asino in cambio della sua salvezza il leone le promise la libertà così la volpe condusse l'asino verso una trappola e se lo lasciò cadere il leone appena vide che l'asino era nell'impossibilità di fuggire assalì per primo la volpe e poi con calma tornò ad occuparsi dell'animale che era accaduto nella trappola il cerbiatto e il cervo un bellissimo cerbiatto dal manto scuro e con delle stupende macchioline bianche sul dorso viveva con la sua famiglia in una meravigliosa foresta con un ricchissimo sottobosco che offriva cibo in abbondanza il cerbiatto ammirava il suo caro babbo e desiderava diventare grande e forte proprio come lui aspettando con ansia che gli spuntassero finalmente le stesse lunghissime corna che tutti invidiavano al suo genitore nell'impazienza di quel momento egli seguiva costantemente il grosso cervo cercando di imitarlo in ogni cosa durante un bel mattino di fino a inverno mentre il grande cervo brucava tranquillo le foglie dei cespugli più bassi in compagnia dell'inseparabile figliuolo un possente rugito squarciò il silenzio della foresta era un leone il cerbiatto sconcertato osservò il suo babbo e con enorme stupore scoprì che questi tremava come un fuscello al vento sì il suo venerato papà aveva paura come era possibile ma prima ancora che egli potesse chiedergli spiegazioni il cervo gridò al figlio corri e si lanciò in una velocissima fuga il cucciolo obbediente lo seguì con le lacrime agli occhi per la vergogna e la delusione quando finalmente si fermarono il cervo si avvicinò al figlio e scorgendo il suo pianto gli parlò con voce dolce piccolo mio questa paura che tu disprezzi ci ha salvato la vita quel leone non avrebbe avuto pietà di noi e ci avrebbe sicuramente sbranati se non fossimo fuggiti a volte bisogna ingoiare il proprio orgoglio e sapersi arrendere di fronte a chi è più forte di noi questo significa diventare adulti e saggi quelle parole consolarono il cerbiatto adesso ammirava ancora di più quel suo babbo che non aveva esitato a dimostrarsi un fifone rischiando di perdere la stima del figlio pur di salvargli la vita questo era il vero coraggio nella vita serve più coraggio per rinunciare ad affrontare persone più forti e prepotenti piuttosto che per accettare sfide inutili e violente il cervo e la vite era una mattina di primavera il sole brillava alto in un cielo azzurrino e limpido mentre un gruppo di uccellini cinguettavano allegramente tra i rami di un'alta quercia un bellissimo cervo dal manto splendidamente fulvo brucava tranquillo l'erba di una vasta distesa situata ai confini di una piccola fattoria proprio quel giorno un grande orso e un vecchio cane decisero di catturare un cervo da tenere rinchiuso nel recinto del podere per allietare i loro cuccioli così vagando tra i campi videro quasi per caso l'animale che pascolava sereno senza perdere tempo li corsero incontro per agguantarlo ma fortunatamente egli comprendendo al volo la situazione si lanciò in una corsa sfrenata per sfuggire alle loro insidiose grinfie poco distante cresceva placidamente accarezzata dai caldi raggi del sole che dominava il cielo una magnifica vita selvatica al colma di fronde e grappoli di un'uva succosa e matura il cervo decise di nascondersi all'ombre di quel folto in trico di foglie sicuro che nessuno sarebbe mai riuscito ad individuarlo infatti quando l'orso e il cane passarono non furono in grado di vederlo e andarono oltre tranquillizzato per lo scampato pericolo l'animale tirò un sospiro di sollievo e allettato dal buon profumo che emanava la vite iniziò a mangiucchiare i suoi grappoli d'uva e le sue gustose foglie fu proprio in quel momento che il cane si accorse della sua presenza ascoltando con attenzione egli aveva potuto distinguere quello strano rumore e tornando sui suoi passi riuscì a scorgere il cervo che masticava la vigna incurante del pericolo per la preda non vi fu più scampo i due cacciatori gli balzarono addosso e lo catturarono senza difficoltà trascinandolo fino alla loro fattoria da quel giorno in poi il povero cervo fu costretto a pascolare solo all'interno di un recinto divenendo un'attrazione per i cuccioli che lo ammiravano divertiti e tutto a causa della sua golosità a volte le premature certezze si trasformano in delusioni molto pericolose non bisogna mai sottovalutare il pericolo finché esso non è realmente passato la cicala e le formiche in inverno essendosi bagnati i chicchi di grano le formiche li esposero all'aria una cicala invece che aveva fame chiedeva loro del cibo e le formiche le dissero perché durante l'estate non hai raccolto del cibo e quella disse non sono stata in ozio ma ho cantato armoniosamente e quelle mettendosi a ridere dissero ebbene se nelle giornate d'estate hai cantato d'inverno balla la favoletta mostra che non bisogna essere negligenti per non affliggersi ed essere in pericolo il contadino e la serpe un vecchio contadino durante la stagione dell'inverno avendo trovato una serpe intirizzita dal freddo e avendone avuto compassione la prese e se la mise in seno quella poi riscaldandosi e riprendendo la propria natura ferì il benefattore e lo uccise allora lui morendo disse ho quello che mi merito poiché ho avuto compassione di quella malvagia la favola mostra che i malvagi sono immutabili anche se sono trattati con estrema bontà due bisacce ciascun uomo porta due bisacce una davanti l'altra dietro e ciascuna delle due è piena di difetti ma quella davanti è piena dei difetti altrui quella dietro dei difetti dello stesso che la porta e per questo gli uomini non vedono i difetti che vengono da loro stessi mentre vedono assai perfettamente quelli altrui la fortuna del cavallo un giorno un cavallo ricco d'ornamenti venne incontro a un asino che stanco e carico com'era tardò a dargli la via avrai una gran voglia disse di fracassarti a calci l'asino non rispose e con un gemito chiamò testimoni gli dèi passò qualche tempo il cavallo durante una corsa azzoppò e fu mandato a servire in campagna appena l'asino lo vide tutto carico di letame ricordi domandò che boria e che pompa e che ne hai avuto eccoti ridotto nella miseria che prima spregiavi i felici che disprezzano l'umile sanno essi quale sarà il proprio domani il granchio e la volpe un giorno un paffuto granchio arancione era proprio di ottimo umore se ne andava passeggiando allegramente per la spiaggia riscaldata dal sole canticchiando la sua canzoncina preferita una vecchia serenata imparata chissà dove egli si vantava spesso con gli altri abitanti del mare della sua capacità di poter vivere tranquillamente sia dentro che fuori dall'acqua e quelli senza nascondere un pizzico di invidia lo osservavano camminare tranquillamente sulla terra ferma ogni volta però il buon granchio riportava ai suoi amici pesci un grazioso ricordino delle sue escursioni ma quel mattino egli non ne voleva proprio sapere di rientrare in acqua il cielo era tanto limpido e sereno da attirare l'ammirazione anche dei più indifferenti per questo il granchietto continuò la sua lunga passeggiata nello stesso giorno una giovane volpe insoddisfatta per la scarsità del suo pranzo quotidiano si aggirava affamata per la spiaggia in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti camminava molto arrabbiata con se stessa per l'incapacità dimostrata a procurarsi del cibo quando vide quasi per caso l'ignaro granchio fermo sulla sabbia a contemplare il paesaggio la volpe si avvicinò curiosa e con un balzo il piombò proprio davanti un povero granchio si prese uno di quegli spaventi memorabili che rimangono bene impressi nei nostri ricordi per tutta la vita e cercando di indietreggiare si riparò con le zampine la volpe era decisa e pronta a mangiarselo in un sol boccone pur non sapendo bene di che animale si trattasse fortunatamente il granchio rievutosi dalla paura riuscire a spingere il suo nemico sfoderandogli le sue terribili tenaglie e pungendogli il muso dopo la fuga della volpe sconfitta il granchio si tuffò in acqua e andò a raccontare la sua brutta avventura agli amici spiegando quanto fosse più sicuro vivere nel mare le persone che affrontano situazioni nuove senza averne l'esatta conoscenza finiscono sempre nei guai il cervo alla fonte e il leone in una dolce giornata estiva sotto un cielo limpido e azzurrissimo un bellissimo cervo dalle lunghe e possenti corna si stava beverando ad una fonte tanto cristellina da riuscire a riflettergli la sua immagine come fosse uno specchio ammirando il proprio bello aspetto fiero e slanciato l'animale era orgoglioso di se stesso le sue lunghe e ramificate corna erano stupende e si argevano decise verso l'alto come fossero maestose corone il suo muso allungato era delicato e deciso come quello di un principe e l'intero suo corpo era forte e robusto le uniche cose che a suo avviso non erano degne di lui erano quelle zampette troppo fragili e delicate essi se fossero state almeno un poco più grosse non avrebbero stonato con il suo fisico possente ma proprio mentre egli era tutto intento a rimirarsi un brusco movimento alle sue spalle risvegliò la sua attenzione qualcuno lo stava spiando si trattava di un grosso leone pronto a balzargli addosso alla prima occasione fortunatamente il cervo si accorse in tempo di lui e riuscì ad allontanarsi cautamente dalla fonte per andare a nascondersi dietro ad un grande cespuglio enorme felino però riuscì senza difficoltà a rintracciare la sua preda a causa delle lunghe corna di quest'ultima che ne tradivano la presenza appena scovato il cervo si lanciò in una velocissima fuga verso la salvezza e sue agili zampe correvano come non mai superando ogni ostacolo e portandolo al sicuro quando finalmente l'animale fu lontano da ogni pericolo potei fermarsi per riprendere fiato che buffo pensò il cervo io ammiravo tanto le mie belle corna invece esse mi hanno tradito mentre invece queste zampette apparentemente fragili che disprezzavo mi hanno salvato la vita la bellezza e la forza fisica non sono sempre d'aiuto mentre le cose apparentemente più fragili possono diventare nel momento del bisogno grandi alleate il corvo e la volpe un corvo aveva rubato un pezzo di carne ed era andato a posarsi su di un albero lo fide la volpe e le venne voglia di quella carne si fermò ai suoi piedi e cominciò ad adularla facendo grandi lodi del suo corpo perfetto e della sua bellezza della lucentezza delle sue penne dicendo che nessuno era più adatto di lui ad essere il re degli uccelli e che lo sarebbe diventato senz'altro se avessi avuto la voce il corvo allora volendo mostrare che neanche la voce gli mancava si mise a gracchiare con tutte le sue forze e lasciò cadere la carne la volpe si precipitò ad afferrarla e beffeggiò il corvo soggiungendo se poi caro il mio corvo tu avessi anche il cervello non ti mancherebbe altro per diventare re il corvo malato tempo fa un cucciolo di corvo assai vivace irrequieto se ne andava a zonzo tutto il giorno sbirciando in faccende che non lo riguardavano ficava il becco in ogni cosa e non perdeva l'occasione di fare scherzi o dispetti ad ogni animale quel mattino però la sua monelleria lo spinse a compiere ciò che non avrebbe mai dovuto fare si intrufolò infatti in una piccola casa situata al limitare del bosco e lesto lesto rubò un bel pezzo di carne sistemato sul davanzale della finestra spalancata per sua sfortuna il contadino fece in tempo ad accorgersi del furto e senza esitare colpì il corvo con una pietra ecco fatto il ladro fu colpito in pieno quel pezzo di carne di costo caro ferito e spaventato il corvetto se ne tornò al nido volando piano per il male quindi si sdraiò sfinito tra le braccia della sua cara mamma questa disperata per le condizioni del figlio scoppiò in lacrime sfogando la propria preoccupazione oh mammina disse il cucciolo prega il signore per me affinché guarisca la mia ferita la corva colma di tristezza rispose povero piccolo mio come puoi chiedere al cielo un miracolo se non ti sei nemmeno pentito del male commesso solo in quel momento il corvetto comprese la sua colpa e giurò a se stesso di non rubare mai più in vita sua fortunatamente la ferita riportata durante la scorribanda alla fattoria si rimarginò in fretta e il cucciolo riacquistò le forze quando fu completamente guarito pote tornare a svolazzare fra gli alberi ma ricordandosi della promessa fatta da quel giorno non toccò più ciò che non gli apparteneva aveva imparato a sue spese il significato della parola furto insegnamenti appresi sulla propria pelle sono i più severi e non potranno mai essere dimenticati il nibbio che voleva nitrire il nibbio durante il primo periodo della sua esistenza aveva posseduto una voce certo non bella ma comunque acuta e decisa egli però era sempre stato nutrito da un incontenibile invidia di tutto e di tutti sapeva di essere imparentato con l'aquila ma questo invece di costituire un vanto non faceva altro che alimentare la sua gelosia capiva di essere inferiore e si rodeva dalla rabbia per questo invidiava gli uccelli variopinti come il pappagallo e il pavone lodati e vezzeggiati da tutti inoltre si mostrava sprezzante nei riguardi dell'usignuolo dicendo tra sé sì ha una bella vocetta ma è troppo delicata e romantica roba da donniciole se devo cercare di migliorare la mia voce certamente non prenderò come esempio questo stupido uccello io voglio una voce forte che si imponga sulle altre era un bel giorno di primavera il nibbio se ne stava tranquillamente appollaiato sopra un ramo di faggio riparato dalle fresche fronde della pianta inaspettato giunse un cavallo accaldato e cercando un po di rifrigerio andò a posarsi all'ombra dell'albero sdraiandosi con l'intenzione di fare un sonnellino l'equino inavvertitamente si punse con un cardo spinoso e dal dolore lanciò un lungo e acutissimo nitrito oh che meraviglia esclamò il nibbio con entusiasmo questa è la voce che andrebbe bene per me acuta imponente e inconfondibile il nibbio cominciò da quel mattino ad esercitarsi nell'imitazione di quel verso meraviglioso provò e riprovò scorticandosi la gola ma inutilmente quando dopo molti tentativi senza successo si rassegnò a tornare alla sua voce originale ebbe una brutta sorpresa e era sparita a furia di sforzarla così dovette accontentarsi di emettere un suono insignificante e rauco per tutta la vita chi mosso da invidia cerca di imitare ciò che è al di fuori della sua natura perde anche le proprie doti originali il tordo il caldo nido della mamma accoglieva dentro di sé quattro bellissimi tordi appena nati i piccoli aspettavano costantemente il cibo con il beccuccio spalancato fiduciosi di ciò che la loro premurosa madre gli avrebbe portato ed accogliendola sempre con gridolini di gioia l'unico a non essere soddisfatto era il più grandicello dei fratellini e gli pretendeva qualcosa di meglio per placare la propria fame quei vermicelli con quelle bacche marce che la solerte mamma gli portava ogni giorno non andavano certo bene per soddisfare un palato fino come il suo quando giunse finalmente all'età giusta per poter volare e procurarsi il cibo che desiderava il tordo si allontanò dal nido e così si diede subito da fare per cercare prelibate le cornie cominciò a svolazzare da una pianta all'altra arricciando il becco disgustato alla vista di insulse bacche o frutta appassita durante uno dei suoi giri di spezione però il tordo capitò su una rarissima pianta di mirto attirato da quella prelibatezza l'uccellino si tuffò tra i suoi rami e fece una bella scorpacciata soddisfatto per l'ottimo cibo decise di tornarsene in quel luogo anche il mattino successivo con quel proposito nel cuore rientrò nel suo nido senza accorgersi di essere stato spiato da un uccellatore quest'uomo appassionato di volatili notando la predilezione che il tordo aveva per quella pianta spalmò di nascosto un po di vischio su alcuni rami il giorno seguente il giovane tordo volò sicuro verso la pianta di mirto pronto a farsi una nuova scorpacciata ma appena posò le zampine sui rami rimase imprigionato dalla sostanza collosa terrorizzato e gli cominciò a piangere e a gridare così forte che fu possibile udire la sua voce a miglia di distanza fortunatamente prima dell'arrivo dell'uccellatore la mamma accorse dal suo figliuolo riuscendo con pazienza a liberargli le zampine e a riportarlo al nido questa volta il tordo se l'era vista proprio brutta a causa della sua golosità molti uomini incapace di resistere ai peccati di gola rischiano di perdere la salute e a volte perfino la vita inverno e la primavera la primavera e l'inverno sono due stagioni completamente opposte che non sono mai riuscite a trovare la corretta armonia per andare d'accordo fortunatamente esse non devono convivere infatti quando compare una deve umilmente ritirarsi l'altro un giorno il signor inverno si trovò faccia a faccia con la giovane signorina primavera anziana stagione con quella sua aria sapiente prese a dire mia cara amica tu non sai essere decisa e determinata quando giunge il tuo periodo annuale le persone e gli animali ne approfittano per precipitarsi fuori dalle loro case o dalle loro tane e si riversano in quei prati che tu con tanta premura hai provveduto a far fiorire e si strappano i giovani arbusti calpestano senza pietà l'erba e assorbono ogni sorso di quel sole splendente che col tuo arrivo diventa più caldo i tuoi frutti vengono ignobilmente raccolti e divorati e infine con il baccano e la cagnara che tutti fanno non ti permettono neppure di riposare in pace invece io incuto timore e rispetto con le mie nebbie il freddo e il gelo la gente si rintana in casa e non esce quasi mai per paura del brutto tempo e così mi lascia riposare tranquillo la bella e dolce primavera colpita da quelle parole rispose il mio arrivo è desiderato da tutti e le persone mi amano tu non puoi nemmeno immaginare cosa significhi essere tanto apprezzati è una sensazione bellissima che non potrai mai provare perché con il freddo che porti al tuo arrivo anche i cuori più caldi si la gelano l'inverno non disse più niente e si fermò a riflettere forse essere ammirati ed amati dagli altri poteva anche essere una bella sensazione per ottenere rispetto ed amore non serve utilizzare la forza di incutere paura invece i migliori risultati si ottengono con la bontà e la sensibilità l'aquila dalle ali mozze e la volpe una volta un'aquila fu catturata da un uomo questi le mozzò le ali e poi la lasciò andare perché vivesse in mezzo al pollame di casa l'aquila stava a capochino e non mangiava più per il dolore sembrava un re in catene poi la comprò un altro il quale le strappò le penne mozze e con un unguento di mirra gliele fece ricrescere allora l'aquila prese il volo afferrò con gli artigli una lepre e gliela portò in dono ma la volpe che la vide ammonì i regali non devi farli a questo ma piuttosto al padrone di prima questo è già buono per natura l'altro invece è meglio che tu lo rabbonisca perché non ti privi delle ali se ti acchiappa di nuovo sta bene ricambiare generosamente i benefattori ma bisogna anche guardarsi prudentemente dai malvagi l'aquila e lo scarafaggio un'aquila inseguiva una lepre per catturarla questa non sapeva come trovare aiuto così visto uno scarafaggio il solo essere in cui il caso la fece imbattere si diede a supplicarlo lo scarafaggio la rassicurò e appena l'aquila gli si avvicinò prese a scongiurarla perché non gli portasse via la povera lepre ma l'aquila non si curò di quel piccolo insetto nero e divorò la lepre proprio sotto i suoi occhi memore dell'offesa lo scarafaggio da allora prese a seguire l'aquila con costanza osservava i luoghi dove quella faceva il nido e deponeva le uova volava al nido si posava sulle sue uova e le faceva rotolare provocando nella rottura cacciata da tutti i luoghi l'aquila un giorno si rivolse a giove e lo pregò di procurarle un luogo sicuro dove poter fare le sue covate giove le permise di deporre le uova nel proprio grembo ma lo scarafaggio ideò uno stratagemma fece una pallottola di sterco volò sopra il grembo di giove e ve lo lasciò cadere il dio per liberarsi da quella sporcizia si alzò in piedi con uno scatto e senza rendersene conto fece cadere a terra le uova da quel tempo si dice che nella stagione in cui appaiono gli scarafaggi le aquile non facciano il nido la cornacchia e la brocca una cornacchia mezza morta di sete trovò una brocca che una volta era stata piena d'acqua ma quando infilò il becco nella brocca si accorse che vi era rimasto soltanto un po' d'acqua sul fondo provò e riprovò ma inutilmente e alla fine fu presa da disperazione le venne un'idea e preso un sasso lo gettò nella brocca poi prese un altro sasso e lo gettò nella brocca ne prese un altro e gettò anche questo nella brocca ne prese un altro e gettò anche questo nella brocca ne prese un altro gettò anche questo nella brocca ne prese un altro e gettò anche questo nella brocca piano piano vide l'acqua salire verso di sé e dopo aver gettati altri sassi riuscì a bere e a salvare la sua vita la pulce e il bue quel giorno una piccola pulce sembrava meno vivace del solito le sue minuscole alette non avevano voglia di scuotersi e le zampettine che normalmente la portavano a saltellare avanti e indietro erano pressoché immobili era una pulce graziosa e nervosetta anche se quel mattino l'annoia pareva essersi impossessata di lei per vivacizzare le sue ore decise di andare a trovare il bue della fattoria il grande animale pascolava quieto nelle verdeggianti distese erbose che circondavano le stalle scuotendo di tanto in tanto la sua lunga coda sotto i caldi raggi del sole con agili pirouette l'animaletto andò a posarsi davanti a lui salve strillò con un vocino acuto oh buongiorno rispose gentilmente il bue avvicinando il suo grosso muso al minuscolo corpicino dell'insetto sai disse la piccolina avevo voglia di chiacchierare con qualcuno bene di che cosa vogliamo parlare chiese il bue non so raccontami un po del tuo lavoro io lavoro per uomo e svolgo duri compiti il mio padrone è un contadino e per lui tiro l'aratro obbedendo ogni suo ordine spiegò il bue che buffo squitti la piccola pulce io invece non prendo ordini da nessuno e mi riposo quando ne ho voglia l'unica cosa a cui devo fare attenzione è di non essere schiacciata dalle manacce di qualcuno ma tu cosa ne ricavi da tanta fatica il bue con un moto di commozione nella voce mormorò ecco vedi quelle mani di cui tu hai paura si trasformano per me in tenere carezze mentre parlava alcune lacrime di gioia gli scivolavano lungo il muso l'uomo apprezza il lavoro che svolgo per lui e mi ripaga con tanto affetto la pulce stupita dal pianto del suo amico si allontano piano ripensando a quanto udito chissà forse quell'affetto di cui il bue parlava con tanta commozione era veramente un bel premio a volte difficile comprendere come per certe persone realmente disinteressate l'affetto possa costituire la migliore ricompensa del loro operato la volpe e l'uva una volpe che aveva fame come vide su una vite dei grappoli sospesi volle impadronirsene ma non poteva allontanandosi disse fra sé sono acerbi così anche alcuni uomini non potendo raggiungere i propri scopi per inettitudine accusano le circostanze il leone e il cinghiale l'estate quando il calore provoca la sete un leone e un cinghiale andarono a bere a una piccola fonte e cominciarono a litigare su chi dei due dovesse dissetarsi per primo la lite si inaspri fino a trasformarsi in duello mortale ma ecco che mentre si volgevano un momento per riprendere fiato scorsero degli avvoltoi che stavano lì ad aspettare il primo che sarebbe caduto per mangiarselo a tal vista ponendo fine al duello dichiararono meglio diventare amici che diventar pascolo di avvoltoi e di corvi il leone e l'asino un asinello un po troppo vanesio si vantava sempre con gli altri animali del proprio coraggio e della propria forza un giorno ricevette una inaspettata proposta dal più importante felino della foresta il leone costui disse all'asino ho pensato che in fondo potremmo esserci di reciproco aiuto vorrei che tu mi aiutassi nelle battute di caccia e per questo avrei deciso di costituire una società con te onoratissimo l'asinello rispose sono lusingato della tua richiesta e accetto volentieri così ebbe inizio la loro collaborazione reciproca una mattina di buon'ora si incamminarono verso una caverna dove avevano visto rifugiarsi un numeroso gruppo di capre selvatiche il re degli animali si fermò sulla soglia con l'intenzione di catturare le prede una per volta appena sarebbero uscite dal rifugio l'asino invece si era intrufolato nella grotta e aveva cominciato a lanciare ragli acutissimi per spaventare le povere bestiole causando un incredibile putiferio le capre terrorizzate ruzzolarono una sull'altra e si precipitarono verso l'uscita dove però trovarono ad attendere l'astuto leone che riuscì ad imprigionarle tutte quindi finalmente l'asino uscì dalla grotta e con aria trionfante esclamò hai visto come sono stato bravo sono un grande cacciatore sarai contento del tuo socio certo rispose con una risata il leone anzi a dirti la verità avrei avuto anch'io paura di te se non ti conoscessi bene e non sapessi che sei solo un asinello tutto soddisfatto l'asino andò buono buono a brucare un po d'erba mentre il leone si apprestava a fare un succulento banchetto le persone che valendo poco si vantano esageratamente con chi le conosce bene rischiano di essere beffate il leone e il topo mentre un leone dormiva in un bosco topi di campagna facevano baldoria uno di loro senza accorgersene nel correre si buttò su quel corpo straiato povero disgraziato il leone con un rapido balzo lo afferrò deciso a sbranarlo il topo supplicò clemenza in cambio della libertà gli sarebbe stato riconoscente per tutta la vita il re della foresta scoppiò a ridere e non lasciò andare passarono pochi giorni ed egli ebbe salva la vita proprio per la riconoscenza del piccolo topo cadde infatti nella trappola dei cacciatori e fu legato al tronco di un albero il topo udì i suoi ruggiti di lamento accorse in suo aiuto e da esperto si mise a rodere la corda dopo averlo restituito alla libertà gli disse tempo fa hai riso di me perché credevi di non poter ricevere la ricompensa del bene che mi avevi fatto ora sai che anche noi piccoli e deboli topi possiamo essere utili ai grandi il leone e il toro un leone da lungo tempo meditava di uccidere un forte toro un giorno decise di riuscire nel suo intento con l'astuzia gli fece sapere di aver catturato un montone e lo invitò al banchetto aveva preparato tutto per assalirlo una volta seduto a tavola il toro andò all'appuntamento vide molte pentole lunghi spiedi ma di montone nessuna traccia allora senza dire neanche una parola se ne andò il leone lo chiamò e gli chiese il motivo del suo comportamento visto che non gli era stato fatto nessun affronto e il toro rispose ho una buona ragione per andarmene vedo tutto pronto per cucinare non un montone ma un toro il leone l'orso e la volpe quella mattina un grande orso bruno era proprio affamato vagava con la lingua di fuori per la foresta in cerca di un po' di cibo quando all'improvviso vide nascosto tra i cespugli un bel cesto ricolmo di provviste abbandonato sicuramente da qualche cacciatore fuori di sé dalla gioia si tuffò su quell'insperato tesoro culinario ma proprio nello stesso momento ebbe la medesima idea anche un grosso leone che non mangiava da alcuni giorni i due si trovarono faccia a faccia e si studiarono con espressione rabbiosa questo cesto appartiene a me urlò l'orso buciardo rugì il leone infuriato in men che non si dica esplose una lotta terribile tra i contendenti i quali si azzuffarono insultandosi senza riserva intanto poco distante una giovane volpe passeggiava tranquilla per il bosco occupandosi delle proprie faccende all'improvviso venne attirata da insolite urla e si avvicinò al luogo di provenienza per scoprire di cosa si trattasse appena vide i due animali impegnatissimi a lottare come matti e il cesto di cibo abbandonato vicino a loro le balenò un'idea quatta quatta si avvicinò al paniere lo afferrò e fuggì via andando a mangiare in pace in un luogo sicuro quando sia il leone che l'orso sfiniti per l'estenuante baruffa sostenuta decisero di spartirsi le provviste dovettero fare i conti con l'amara sorpresa il cesto era sparito e al suo posto trovarono unicamente le impronte di una volpe sicuramente molto furba è inutile contendersi violentemente qualcosa che a causa della nostra distrazione può diventare patrimonio di un'altra persona la leonessa e la volpe serenamente accucciata all'ombra di una fresca pianta situata nel cuore della foresta una tranquilla leonessa e una placida volpe chiacchieravano tra loro come due vecchie amiche discutendo del più e del meno per un ascoltatore attento non era difficile però scoprire che nascoste nelle loro parole vi era rinchiuso un pizzico di invidia in effetti la volpe desiderava possedere lo stesso coraggio e l'identica sicurezza che alimentavano il comportamento dell'amica leonessa mentre a questa sarebbe piaciuto conquistare la celebre furbizia dell'altra nonostante le piccole gelosie racchiuse nei loro cuori entrambe mantenevano un rapporto forzatamente cortese scambiandosi sorrisi ed esagerati complimenti finché un giorno passeggiando insieme nel bosco con i rispettivi cuccioli che tratterellavano amabilmente intorno a loro giocando e rincorrendosi fra gli alberi la volpe non riuscì più a trattenere una frase alimentata unicamente dall'invidia mia cara disse atteggiandosi a grandama e indicando con lo sguardo i suoi piccoli tu avrai anche un portamento da regina possiedi grande forza e vigore ma in quanto a madre devi ammettere che io sono più portata guarda i miei cinque volpacchiotti come giocano felici tra loro invece tu hai messo al mondo un solo figliuolo e poveretto sembra tanto triste senza fratelli evitando di scomporsi la leonessa rispose certo amica mia io ho partorito un solo cucciolo ma questo piccolo vale più di ogni altro animale egli è un leone e una volta cresciuto sarà un re non potendo ribattere niente la volpe si limitò ad ingoiare la propria gelosia accettando ciò che la natura aveva dispensato è inutile invidiare ciò che non si possiede perché ognuno dispone di quello che la natura gli ha attribuito il leone va alla guerra il leone re della foresta decise un bel giorno di fare una guerra e come fanno tutti i re diramò un bando fra tutti gli animali suoi sudditi gli animali diceva il bando vengano da ogni parte della foresta per aiutare il loro re a fare la guerra vengano tutti senza nessuna esclusione per prendervi parte vennero tutti dai più grandi ai più piccoli tutti erano stati invitati perché il leone aveva detto che tutti avrebbero avuto un compito in guerra e quando tutti gli animali furono riuniti davanti al re e ai suoi ministri il leone cominciò ad assegnare ad ognuno il proprio compito disse all'elefante tu hai molta forza combatterai ma porterai anche l'artiglieria e tutto quello che occorre ai tuoi compagni poi disse alla volpe tu che sei il più furbo degli animali mi aiuterai ad ingannare il nemico e tu disse all'orso che sei forte e agile sarai utile quando dovremmo assalire le fortezze scavalcherai le mura e conquisterai in breve tempo le città ad uno ad uno il leone chiamò tutti gli animali e trovò per ognuno un compito preciso per la guerra che stava per cominciare quando comparvero davanti al re gli asini e le lepri i ministri e i consiglieri gli dissero questi sono animali inutili alla nostra guerra gli asini sono sciocchi e le lepri paurose e timide che cosa ne facciamo mandiamoli via ma il leone rispose ai suoi consiglieri e ministri l'asino ha una voce più forte della mia sarà un'ottima tromba per chiamare a raccolta i soldati e la lepre è velocissima e porterà i messaggi da un luogo all'altro il leone che era saggio sapeva che nessuno era inutile e disse dovete imparare che tutti sono utili se usati al momento opportuno e sfruttando le loro capacità la lepre e la tartaruga la lepre un giorno si vantava con gli altri animali nessuno può battermi in velocità diceva sfido chiunque a correre come me la tartaruga con la sua solita calma disse accetto la sfida questa è buona esclamò la lepre e scoppiò a ridere non vantarti prima di aver vinto replicò la tartaruga vuoi fare questa gara così fu stabilito un percorso e dato il via la lepre partì come un fulmine quasi non si vedeva più tanto era già lontana poi si fermò e per mostrare il suo disprezzo verso la tartaruga si estraiò a fare un sonnellino la tartaruga intanto camminava con fatica un passo dopo l'altro e quando la lepre si svegliò la vide vicina al traguardo allora si mise a correre con tutte le sue forze ormai era troppo tardi per vincere la gara la tartaruga sorridendo disse non serve correre bisogna partire in tempo il lupo e i cani era una regione fredda e ostile quella in cui viveva il grande branco del lupo più furbo e intelligente che si fosse mai visto i suoi simili lo seguivano con rispetto e obbedivano ad ogni suo ordine timorosi di non tradirlo ben conoscendo la portata della sua forza esso era soprannominato il pirata a causa di quella benda scura che gli copriva l'occhio sinistro perso in chissà quali battaglie molte giovani lupe si erano innamorate di lui colpite da quel suo fare sicuro e deciso e da quella sua aria sempre un poco malinconica ma il lupo non aveva voluto formare una famiglia perché quel suo spirito di avventuriero impediva di avere un colare dove vivere ultimamente però quel vecchio lupo aveva dei problemi si trattava del cibo purtroppo il gelo dell'inverno aveva fatto fuggire ogni preda e distrutto ogni raccolto facendo scarseggiare il mangiare inoltre un feroce branco di cani selvatici si aggirava da quelle parti rubando e invadendo ogni cosa appartenente ai lupi per questo decide di affrontare il comandante dei cani in un'unica e decisiva battaglia al termine della quale il vincitore avrebbe preso pieno possesso di tutto il territorio scacciando il perdente i cani uniti di prepotenza e spavalderia accettarono volentieri il confronto sicuri di sconfiggere gli avversari l'esito della battaglia fu invece favorevole per i lupi guidati dall'abilissimo lupo che ormai abituato alla lotta sferrò un attacco compatto e decisivo i cani disordinati e divisi cercarono di difendersi in qualche modo ma persero comunque la guerra fuggendo via sconfitti la migliore arma per vincere qualsiasi battaglia è l'unione spiegò al suo felice branco di lupi i cani appartenevano a razze diverse ed era impossibile riuscire a coordinarli per questo abbiamo vinto così in un coro di grida gioiose i lupi riacquistarono la padronanza del territorio la concordia e la compattezza insieme con l'uniformità delle usanze fanno la forza di un esercito il lupo e il pastore un lupo andava al seguito di un greggio di pecore senza far loro alcun male il pastore sulle prime lo teneva a bada come un nemico e lo sorvegliava con estrema diffidenza ma quello ostinatamente lo seguiva senza rischiare il minimo tentativo di rapina così gradatamente il pastore si convinse di avere in lui un custode piuttosto che un nemico intenzionato a danneggiarlo un giorno ebbe bisogno di recarsi in città gli lasciò le pecore in custodia e partì tranquillo ma il lupo seppe cogliere l'occasione si lanciò sul greggio e ne fece strage sbranandone una gran parte e il pastore quando fu di ritorno e vide la rovina del suo greggio esclamò mi sta bene quale stupidità mi ha spinto ad affidare le pecore ad un lupo allo stesso modo coloro che affidano i propri beni a persone avide naturalmente li perdono il lupo sazio e la pecora quello era davvero un gran giorno per un lupo rinomato in tutto il contado per la sua insaziabile fame infatti senza neppure alzare un dito gli era riuscito a procurare ottime prede trovate casualmente a terra perché colpite da qualche cacciatore e si era preparato un pranzo degno di un re il lupo dopo aver abbondantemente mangiato si inoltrò nella foresta per fare due passi fu così che incontrò una mansueta pecorella la quale terrorizzata dal temibile animale notoriamente suo nemico non riuscì neppure a muoversi paralizzata dallo spavento il lupo più per istinto che per altre ragioni afferrò la preda tenendola stretta stretta ma solo dopo averla catturata si rese conto di essere talmente sazio da non avere più alcun appetito occorreva trovare una valida giustificazione per poter liberare quella pecora senza fare brutta figura ho deciso disse quindi il lupo di lasciarti andare a condizione che tu sappia espormi tre desideri con intelligenza la pecorella sconcertata dopo aver pensato un istante rispose beh innanzitutto avrai voluto non averti mai incontrato seconda cosa se proprio ciò doveva avvenire avrai voluto trovarti cieco ma visto che nessuno di questi due desideri è stato esaudito adesso vorrei che tu e tutta la tua razza siate maledetti e facciate una brutta fine perché mi avete reso la vita impossibile e avete mangiato centinaia di mie compagne che non vi avevano fatto alcun male inaspettatamente il lupo invece di adirarsi come prevedibile dichiarò apprezzo la tua sincerità hai avuto molto coraggio a dirmi ciò che realmente pensavi per questo ti lascerò libera così dicendo liberò la pecorella e con un cenno di saluto la invitò ad allontanarsi la sincerità è una dote apprezzata da persone intelligenti capaci di non offendersi davanti a dichiarazioni leali il nibbio e il serpente un giovane serpentello che ne stava tranquillo strisciando fra una pietra e l'altra godendosi i caldi raggi del primo sole primaverile l'aria era tiepida e carica di un buon profumo di fiori e ogni animale si sentiva rasserenato da quel clima dolce il piccolo serpente si muoveva piano nel prato quando all'improvviso una spaventosa ombra si proiettò sul suo cammino l'animale preoccupato alzò il testino per guardare da dove provenisse la macchia scura e solo allora scoprì che un terribile nibbio stava puntando dritto dritto su di lui il poverino non ebbe nemmeno il tempo di scappare perché in un lampo il volatile gli piombò addosso afferrandolo con il becco il serpente fu così sollevato in cielo da quel rapace che senza avere pietà per le sue grida volò via il più velocemente possibile lasciami andare implorava lo sfortunato animaletto non ti ho fatto niente ma il nibbio non l'ascoltò neppure a quel punto il serpentello si rivoltò su se stesso e con un'abile mossa diede un morso al suo nemico finalmente il volatile colpito dal veleno della sua preda fu costretto ad aprire il becco liberando il serpente che cadde a terra senza farsi male il nibbio invece con la vista annebbiata e senza più forze a causa del morso velenoso precipitò sul terreno a peso morto riportando parecchie ferite quando il volatile era ancora stordito il serpentello gli si avvicinò gli disse ben ti sta io non volevo farti del male ma tu mi ci hai costretto e adesso ne paghi le conseguenze trascorsero due giorni interi prima che il nibbio potesse riprendere a volare ma a partire da quella volta che gli si tenne sempre a una certa distanza da tutti i serpenti chi si dimostra prepotente e malvagio prima o poi paga di persona per le sue cattiverie il pescatore che batteva l'acqua un pescatore pescava in un fiume dopo aver teso le reti e sbarrato la corrente dall'una all'altra riva batteva l'acqua con una pietra legata ad una funicella perché i pesci fuggendo all'impazzata andassero ad impigliarsi tra le maglie vedendolo intento a quell'operazione uno degli abitanti del luogo si mise a rimproverarlo perché insudiciava il fiume e rendeva loro impossibile di bere un po d'acqua limpida e quello rispose ma se non intorbido così l'acqua a me non resta che morire di fame così anche negli stati per i demagoghi gli affari vanno bene specialmente quando essi sono riusciti a seminare il disordine nel loro paese il pipistrello il rovo e il gabbiano molto tempo fa un pipistrello un rovo e un gabbiano si riunirono in un isolotto per formare una strana società commerciale fondata sulla vendita di stoffe e di rame il rovo possedeva una buona quantità di lana seta e cotone procurate grazie al duro lavoro dei suoi antenati egli aveva conservato i suoi averi nell'attesa di una buona occasione per poterli rivendere il pipistrello essendo il più abile dei tre negli affari si prodigò per procurare il denaro necessario per l'acquisto di una buona imbarcazione sulla quale trasportare i materiali fino al continente per riuscirvi fece parecchi debiti con degli strozzini ai quali avrebbe dovuto restituire il doppio dei soldi prestati comunque con il discreto gruzzoletto che ebbe a disposizione egli comprò una piccola barca a remi il gabbiano invece aveva adocchiato un buon quantitativo di rame abbandonato da qualche mercante munitocì di pazienza recuperò tutto quel tesoro che sarebbe servito per la loro società giunse infine il gran giorno i tre avevano caricato ogni cosa sulle barchette ed erano ormai pronti per partire speriamo che questa barca sia abbastanza robusta disse il gabbiano preoccupato se il tempo si manterrà calmo andrà tutto benissimo rispose il pipistrello finalmente gli amici si carono e partirono ma durante la sera un terribile temporale fece ribollire le acque del mare le cui onde gigantesche inghiottirono senza pietà la piccola barca i tre compagni fortunatamente si salvarono perdendo però ogni cosa da quel giorno il pipistrello incapace di ripagare i debiti uscì solo di notte per evitare di incontrare gli strozzini che volevano indietro il loro denaro il gabbiano imparò a rimanere appollaiato sopra scogli marini nella speranza che le acque gli restituissero il suo rame infine il rovo aguzzò le sue spine strappando i vestiti dei passanti nell'attesa di ricostruire con i brandelli procurati il suo prezioso patrimonio di stoffe ormai perdute questa è un'antichissima leggenda con la quale viene spiegata l'origine delle abitudini dai tre protagonisti lo scherzo del pastore un pastorello conduceva ogni giorno le sue pecorelle a pascolare si annoiava molto e così decise di fare uno scherzo a tutta la gente del villaggio aiuto al lupo al lupo cominciò allora a gridare con quanto fiato aveva in gola tutti i contadini accorsero armati di forconi a randelli ma quando arrivarono nel grande prato non videro neanche l'ombra del lupo il pastorello rideva a crepa pelle era solo uno scherzo e voi ci siete cascati qualche giorno dopo ripete lo stesso e i contadini allarmati giunsero di corsa al prato presto si accorsero che il pastorello si era giocato un'altra volta di loro un giorno arrivò d'improvviso un intero branco di lupi il pastorello cominciò a gridare disperatamente al lupo al lupo ma i contadini credendo a un altro scherzo non si mossero più indisturbati i lupi fecero strage di pecore ed agnelli chi mente sempre non può più essere creduto quando dice la verità la scimmia e il cammello quello era un giorno particolarmente importante infatti dalla foresta era partito un invito rivolto ai delegati di ogni specie animale che avrebbero dovuto riunirsi in un'assemblea durante la quale si sarebbe discusso di un argomento molto serio non mancò proprio nessuno il primo a prendere la parola fu il leone indiscusso re degli animali nel rispettoso silenzio generale e gli disse carissimi sudditi ci siamo riuniti oggi allo scopo di stabilire una pace duratura tra di noi eliminando ogni diverbio e ogni invidia per riuscire così ad affrontare insieme gli eventuali pericoli provocati dall'uomo alla natura il discorso continuò a lungo sottolineato da applausi di assenso erano dunque tutti d'accordo era necessario riunirsi per superare qualsiasi problema al termine dell'assemblea ogni animale prese parte al grande pranzo organizzato per l'occasione ci fu cibo in abbondanza e bevande a volontà quando tutti furono sazi e soddisfatti qualcuno chiese alla scimmia notoriamente allegra e vivace di aglietare la cerimonia con qualche spettacolo divertente questa senza farsi pregare salì sulla pedana e con agilità e simpatia diede inizio a un numero spassosissimo ricco di salti acrobatici capriole e danze estasiati gli spettatori applaudirono come non mai divertiti dall'abilità di quell'insolito comico l'unico rimase in silenzio fu il cammello che geloso del successo ottenuto dalla scimmia decise di esibirsi anche egli sul palco attirando l'attenzione su di sé questo buffo animale di adelvia un balletto goffo e sgraziato egli non era affatto agile né divertente tra i fischi generali fu così costretto a ritirarsi nascondendosi in un angolo dove ripensò ai buoni propositi di cui si era discusso durante l'assemblea certo per restare tutti uniti ed amici egli doveva cominciare ad ingoiare un po della propria invidia l'invidia è il peggiore dei difetti perché ci impedisce di ragionare e ci costringe a lanciarci in imprese di cui non siamo all'altezza il topo di città e il topo di campagna un giorno il topo di città andò a trovare il cugino di campagna questo cugino era di modi semplici e rozzi ma amava molto l'amico di città e gli diede un cordiale benvenuto lardo e fagioli pane e formaggio erano tutto ciò che potevo offrirgli ma gli offrì volentieri il topo di città torse il lungo naso e disse non riesco a capire caro cugino come tu possa tirare innanzi con un cibo così misero ma certo in campagna non ci si può aspettare di meglio vieni con me io ti farò vedere come si vive quando avrai trascorso una settimana in città ti meraviglierai di aver potuto sopportare la vita in campagna detto fatto i due topi si misero in cammino e arrivarono all'abitazione del topo di città a notte tarda desideri un rinfresco dopo un viaggio così lungo domandò con cortesia il topo di città e condusse l'amico nella grande sala da pranzo qui trovarono i resti di un ricco banchetto e si misero subito a divorare dolci marmellata e tutto quello che c'era di buono a un tratto udirono dei latrati che cos'è questo chiese il topo di campagna sono soltanto i cani di casa rispose l'altro soltanto esclamò il topo di campagna non amo questa musica durante i pasti in quell'istante si spalancò la porta ed entrarono due enormi mastini i due topi ebbero appena il tempo di saltar giù e di correre fuori addio cugino disse il topo di campagna come te ne vai così presto chiese l'altro sì replicò il topo di campagna meglio lardo e fagioli in pace che dolci e marmellata nell'angoscia il topo della ranocchia un dolcissimo topolino di campagna col musetto simpatico i due occhioni scuri vagando tutto solo per i campi incontrò un bel giorno una buffa sgraziata ranocchia osservandosi al principio dubbiosi i due fecero ben presto amicizia sai mi piacerebbe sapere come ti procuri il cibo chiese quella oh beh borbottò il topolino con la testa bassa non è che io sia un gran campione anzi faccio enorme fatica a trovare qualcosa da mettere sotto i denti ehi gridò la rana che ne diresti se andassimo insieme a caccia di cibarie in due di sicuro avremmo più fortuna potremmo legarci con una catena l'un l'altro così da essere sicuri di non perderci il topolino rimase un istante a riflettere quindi disse mi sembra una buona idea e così fecero legati insieme i due si diedero da fare per cercare del cibo e bisogna dire che ne trovarono proprio tanto quando alla fine della giornata furono veramente sazi si incamminarono verso casa ancora incatenati giunsero allo stagno della ranocchia e questa senza pensarci due volte si tuffò decisa nell'acqua trascinandosi dietro il povero topino che non sapendo nuotare si mise a urlare e cominciò a dibattersi per non annegare un nibbio osservando dal cielo tutto quel trambusto e vedendo il povero topo ormai privo di sensi pensò di aver trovato un bombo concino si precipitò allora sullo stagno e afferrò con gli artigli il corpo del topino al quale era legata anche la ranocchia risvegliato dalle grida della rana il topino iniziò con i suoi dentini a guzzi a morsicare le zampine del volatile il quale aprì gli artigli per il male e li lasciò ricadere i due toccarono il suolo senza farsi male ma decisero subito di togliersi quella catena che gli aveva procurato tanti guai quando si decide di legarsi a qualcuno con un vincolo d'amore o di amicizia bisogna ricordare che ogni persona ha esigenze diverse dall'altra ed è necessario per quanto possibile assecondare i desideri di entrambi i componenti la coppia la gallina dalle uova d'oro un tale aveva una gallina che faceva le uova d'oro e credendo che dentro di essa ci fosse una massa d'oro avendola uccisa la trovò simile alle altre galline e lui avendo sperato di trovarvi una ricchezza ammassata fu privato anche di quella piccola ricchezza la favoletta mostra che bisogna accontentarsi dei beni presenti e fuggire l'insaziabilità l'usignolo e lo sperviero posato su un'alta quercia un usignolo secondo il suo solito cantava lo scorse uno sperviero a corto di cibo gli piombò addosso e se lo portò via mentre stava per ucciderlo l'usignolo lo pregava di lasciarlo andare dicendo che esso non bastava a riempire lo stomaco di uno sparbiero doveva rivolgersi a qualche uccello più grosso se aveva bisogno di mangiare ma l'altro lo interruppe dicendo bello sciocco sarei e lasciassi andare il pasto che ho qui pronto tra le mani per correre dietro a quello che non si vede ancora così anche tra gli uomini stolti sono coloro che nella speranza di beni maggiori si lasciano sfuggire quello che hanno in mano l'usignolo e lo sparbiero era una dolcissima giornata di primavera i rami fioriti di ogni albero si stagliavano sotto un cielo limpido e cristallino ogni animale del bosco era lieto di correre libero fra i mille profumi della natura appena risvegliatasi era bello vivere gridare ruzzolare nei campi giocare all'aria aperta a questo pensava un grazioso usignolo svolazzando tra una pianta e l'altra egli era enormemente contento infatti era appena diventato papà di cinque meravigliosi uccellini la sua cara mogliettina se ne stava premurosa nel nido a curare i simpaticissimi cucciolotti che cinguettavano allegramente mentre lui vagava per il bosco in cerca di un po' di cibo per tutta la famiglia attirato da quell'aria frizzante il piccolino si trattenne in giro per i prati assaporando il buon sapore di libertà ma quando si decise a tornare a casa portando del mangime nel becco notò in lontananza l'arrivo di un terribile sparviero che puntava dritto dritto sul nido in cui si trovavano i suoi cuccioli con coraggio e senza esitare l'usignolo si posò sul ramo di un'alta pianta e cominciò a cantare con quanto fiato aveva in gola una melodia bellissima uscì dal suo beccuccio ogni creatura si fermò ad ascoltare era il canto di un genitore disperato lo sparviero attirato da quel suono si lanciò deciso sull'uccellino agguantandolo saldamente e rivolando via velocemente l'usignolo sfinito per il faticoso canto si abbandonò felicemente agli artigli dallo sparviero era riuscito a distogliere l'attenzione del rapace dai suoi piccoli grazie alla sua melodia canora sì quel padre aveva salvato i suoi figli con il proprio sacrificio l'amore di un genitore riesce sempre a superare qualsiasi ostacolo per la salvezza dei propri figli il vento e il sole un giorno il vento e il sole cominciarono a litigare il vento sosteneva di essere il più forte e a sua volta il sole diceva di essere la forza più grande della terra alla fine decisero di fare una prova videro un viandante che stava camminando lungo un sentiero e decisero che il più forte di loro sarebbe stato colui che sarebbe riuscito a togliergli i vestiti il vento così si mise all'opera cominciò a soffiare e soffiare ma il risultato fu che il viandante si avvolgeva sempre più nel mantello e il vento allora soffiò con più forza e l'uomo chinando la testa si avvolse una sciarpa intorno al collo fu quindi la volta del sole che cacciando via le nubi cominciò a splendere tiepidamente l'uomo che era arrivato nella prossimità di un ponte cominciò pian piano a togliersi il mantello l'uomo rosso per il gran caldo guardò le acque del fiume e senza esitare si tuffò il sole alto nel cielo rideva e rideva il vento deluso e vinto si nascose in un luogo più lontano la volpe e il leone quella mattina una volpe se ne andava tranquilla per i prati rifioriti dopo la brutta stagione invernale i profumi della natura le solleticavano le nari accarezzandole la fantasia permettendole di sognare paesi lontani belli e sconosciuti all'improvviso la sua attenzione venne richiamata da un violento ruggito era un verso che non aveva mai sentito e terrorizzata fuggì a nascondersi dietro un cespuglio da lì poteva vedere riparata tra le foglie interribile animale che aveva emesso quel suono si trattava di un leone una bestia a lei sconosciuta spaventata la povera volpe scappò via il più velocemente possibile trascorsero un paio di giorni tranquilli dopo quel brutto incontro che sembrava quasi essere stato dimenticato quando ad un tratto la piccola volpe si imbatte ancora nel leone questa volta il re della foresta le apparve proprio davanti ostacolandole il cammino essa impaurita iniziò a tremare come una foglia senza tuttavia fuggire ma rimanendo ferma al suo posto fino a quando il leone non si fu allontanato la terza volta che la volpe si imbatté in quel grosso e possente animale dal risonante rugito scoprì che il proprio timore nei suoi confronti andava pian piano assopendosi così durante il successivo incontro con il leone si dimostra molto più calma e riuscì perfino a guardarlo bene dentro gli occhi salutandolo con un cordiale buongiorno infine quando ebbe ancora modo di vederlo la volpe provò a parlargli e riuscì finalmente a scoprire in lui doti come il coraggio e l'intelligenza da quel giorno non si stanco mai di ascoltarlo sicura che dall'esperienza di un animale così astuto e bravo cacciatore avrebbe tratto solo vantaggi se imparassimo a conoscere ciò che ci spaventa riusciremo a superare le nostre paure la volpe davanti a una maschera da teatro una volpe era entrata nella casa di un attore e che esplorava ciascuno dei suoi arredi trovò anche una maschera da teatro lavorata con molta abilità e avendola sollevata con le mani disse quale testa ma non ha cervello la favoletta si addice agli uomini splendidi di corpo ma stolti di mente